Siamo con Luca Michielutto, lei è presidente dell'ASVO ormai da molti anni e per cui ci conosciamo molto bene. Ecco, tra le tante iniziative che l'ASVO fa per l'ambiente, per spiegare ai cittadini cosa devono fare, come devono comportarsi, ma soprattutto per far conoscere anche cosa sta succedendo nel mondo se non fanno quelle regole che poi voi come ASVO cercate sempre, tutti i giorni, di insegnare sia a scuola ma non solo a scuola. Ecco, in questo caso assieme a una compagnia teatrale, qui il 19 giugno c'è una rappresentazione teatrale proprio sull'ambiente, diciamo emozionale, però che vuole far capire a chi è presente cosa stiamo facendo e come stiamo distruggendo questo mondo. Sì, di fatto quando ci hanno proposto questo spettacolo noi come ASVO abbiamo subito accettato, tra l'altro quella del 19 sarà una prima nazionale, dunque sarà un momento importante. Siamo orgogliosi che ACAP Group, che ormai ci segue da anni nella comunicazione ambientale, abbia scelto proprio Portoguaro e ASVO come primo elemento di diffusione di questo spettacolo. Ed è lo spettacolo che è in linea un po' con le mission di ASVO, cioè con quello che ASVO ha fatto in questi anni, come ben lei ha ricordato, che non è solo la raccolta differenziata, è vero? In questi anni abbiamo fatto una rivoluzione pacifica portando questo territorio che aveva una differenziata del 30%, portandolo a superare di gran lunga il 70%. Adesso su 100 kg di rifiuti ben 70 vanno a recupero in questo territorio ed è un risultato eccezionale, soprattutto tenendo conto delle due spiagge di Bibione e Caorle. Ma non è solo questo che in questi anni ASVO con l'educazione ambientale si è impegnata, si è impegnata ad esempio nel mondo delle scuole, nel mondo delle imprese, delle famiglie, delle associazioni, spiegando anche dei stili di vita sostenibili, dunque lo spreco delle risorse, lo spreco alimentare, cioè stare attenti a quelle che sono le cose importanti dell'ambiente che rischeremo altrimenti di renderlo meno vivibile nel futuro. In questo spettacolo non è uno spettacolo dove daremo consigli, non daremo buone pratiche, sarà uno spettacolo dove chi viene a vederlo farà una riflessione importante. Io l'ho visto come una prova della prima, l'abbiamo visto tra l'altro insieme con le scolaresche del portugarese che sono state molto colpite favorevolmente a questa prima dello spettacolo ed è uno spettacolo che ti fa riflettere, ti fa riflettere su quanto è lunga la storia del nostro pianeta e di quanto noi in questa piccola porzione di storia del nostro pianeta possiamo compromettere il futuro, il futuro di intere generazioni. Ecco perché abbiamo pensato di essere partner e di essere fautori insieme agli undici comuni del portugarese che ricordano il patrocino, tutti gli undici a questo spettacolo, di questa importante prima nazionale.